Vado? Io non ho capito se siamo live, non siamo live, buonasera a tutti, siamo live, sì sì, Andrea mi conferma, anche con la leggia, perdonate, mi rimane così sotto sotto, Andrea benissimo e purtroppo oggi siamo in realtà un pochino io, loro no, loro sono da studio, tranquillissimi, ovviamente come sempre con l'aria condizionata e a posto, io invece sono in diretta, pensate un po', sono in diretta da Napoli, sono qui presente all'evento dell'University League, alle finali dell'University League, ma non potevo ovviamente mancare, anche perché già sono mancato settimana scorsa, anzi di questo, veramente mi scuso davvero con tutti, a partire dalla regia, anche da Andrea, ovviamente, ma anche con voi spettatori, per essere mancato settimana scorsa, purtroppo ero un po' indisposta, mettiamola così, ero in vacanza, ma questo non mi ha resentato dal pennello di un bellissimo virus intestinale, perché giusto così, quando uno per vacanza si sente male, fuori, soprattutto, ma questo è un problema, abbiamo passato, siamo fuori, siamo in diretta da Napoli, ripeto, ma non mi sentirete dire ue ue, perché non sarebbe forse un po' razzista che avrete, eviterò assolutamente, ma detto ciò, buonasera e come sempre, io sono Francesco Diomonombago, perché non mi conoscesse, e siamo qui da studio League, vedete, sono molto più comodo, un bel divano, questa volta, non la mia solita poltrona da studio, devo dire che sono molto più comodo, che cos'è studio League comunque è la consueto, il consueto apportamento che abbiamo ogni venerdì dalle 15 alle 17, tendiamo a porre un successo al PG Nationals prima per partire, ovviamente sfruttiamo le liste che sta per iniziare, e tutte le altre reghe competitive, perché non può mancare il World to War, quindi è sostanzialmente un approfondimento, una trasmissione di approfondimento su tutta la scena competitiva di League of Legends, nazionale e internazionale, che poi tutte in realtà no, ovviamente, perché mancano, mancherebbe la, non lo so, la scena turca, la scena russa, tutte le IRL, il campionato brasiliano, ma ogni tanto parleremo anche di qualcosina, oggi accendiamo anche qualcosa alla VCS, tra l'altro per felicità di Gioennetti, che spero ci sia, che ci ascolterà anche successivamente, ma prima di iniziare, tra l'altro l'ospite, ve lo anticipo, per chi non lo sapesse, per chi non ha il setto, l'ospite di oggi sarà Noodles, quindi ci verrà a trovare l'analyst dei G2 Esports, ma prima di iniziare effettivamente, lo lavoro l'Andrea, quindi deve fare gli onori di casa e salutare tutti quanti e far salutare tutti quelli che soprattutto permettono di creare questo show. Ciao Francesco, ciao a tutti e benvenuti innanzitutto, wewe lo dico io, benvenuto, bentornato sulla penisola, bentornato nel continente e benvenuti a tutti voi i spettatori di Studio League. Io prima di partire con le notizie che abbiamo comunque parecchie notizie in caldo e come già anticipato Francesco, se non aveste letto dal titolo, l'ospite di oggi è Dimitri, analyst data scientist di G2 Esports. Io volevo salutare innanzitutto Mattia Mingione, dalla regia, che tutto vede e tutto tocca. Volevo salutare Niccolò Masini, generale, che riesce ad aggiustare qualsiasi problema, e non ne abbiamo pochi, io lo posso garantire, in pochi secondi. Volevo salutare Giulio Zezzi, il direttore, è Raffaele Navarra, che ci aiuta a tagliare tutte le clip e tutti gli highlights, pur non giocando a League of Legends, infatti vedrete che piano piano sto cercando di convincerlo a scaricarlo e andare a un po' intare in giro. E' anche un gioco da cui si impara tanto guardandolo anche solamente, quindi secondo me anche se pure di fare gli highlights, secondo me impara parecchio. Ti posso garantire che io stesso ho iniziato così, io stesso ho iniziato guardando, ho iniziato guardando le partite dei fanatic che mi facevano vedere, mi sono appassionato e da lì ho scaricato il gioco e ho deciso di iniziare a fare un po' schifo anch'io. E volevo anche innanzitutto salutare la chat, grazie per essere qui, voglio salutare Rowe, che ci segue sempre, e che saluta Deugemo, che è direttamente da Ibiza con i soldi del suo verificato su Twitter. Sì sì, confermo tutto, Ibiza, Formentera, Canarie, tutte contemporaneamente, e soprattutto con i soldi dell'e-sports ci mancherebbe. Con i soldi del verificato? Sì, del verificato, scusate, perché appena tu otteni il verificato ti arriva subito una stella in bianco che ci permette quindi la cifra che vuoi, quindi cercate di ottenere il verificato prima possibile perché aiuta sicuramente a fare tantissimi soldi. Ovviamente a parte degli scherzi, prima che Twitter me lo levi in man che non significa. Allora Andrea, come sempre partiamo dal PGNations. Abbiamo avuto una settimana di pausa da PGNations perché quest'anno hanno deciso di fare una settimana di pausa tra la fine della regular season e l'inizio dei playoff e quindi sono iniziati finalmente i playoff. Perché finalmente? Perché comunque aspettavamo da un po' di conovere qualche indicazione in più, soprattutto dal formato totalmente diverso, quello del regular season. Siamo abituati alla best of one, adesso siamo stati alla best of five, tra l'altro su Twitter, ieri, l'altro ieri insomma c'è stato anche un sondaggio su, lanciato da BionTG, rilanciato da me, sul fatto dell'importanza di fare best of one, best of three, best of five, più direi best of five, best of one, best of three, o addirittura a best of two qualcuno ha proposto direttamente sul, per quanto riguarda l'Elicy, qualcuno aveva capito anche a PGNations, questo è un qualcosa di cui si potrebbe parlare in futuro, in realtà è un formato diverso, è un best of one che in questo momento credo sia il più adatto, perché è veloce, immediato, serve anche per il pubblico casual, ci permette di non dover fare ore e ore di highlights soprattutto, e ogni settimana, giusto Andrea? Soprattutto. Soprattutto, ma la cosa più interessante è che ad esempio il formato best of two, noi l'abbiamo avuto con Lega prima qualche anno fa, che era stato il primo campionato effettivo di League of Legends, inteso non come torneo che durava un mese, dieci giorni, due settimane quello che era, ma un campionato vero e proprio come in pieno stile calcistico di basket, tutto palla a volo, un campionato vero e proprio poi con fase, anche quella di pay off. Invece, il problema qual era forse all'epoca, perché ancora i tempi non erano maturi, perché io mi sto rendendo conto, adesso guardando l'Elicy, perché anche l'Elicy ha fatto delle, come dite, delle cose parecchio sperimentali, perché anche l'Elicy ha provato, anzi quando ancora era la vecchia URCS ha provato addirittura le best of two, aveva provato anche le best of l'Elicy, forse no, se l'Elicy fosse male, non me lo ricordo, ma poi c'è stata una dittura, aveva provato il doppio girone, quindi squadre suddivise in due gironi diversi, in cui ti scontravi due volte contro le squadre del tuo girone e una volta contro le squadre del tuo girone dell'Elicy, ma alla fine in realtà ha provato di tutto e se oggi abbiamo questo formato all'Elicy, probabilmente è perché quello che trova il miglior compromesso tra, qual è il problema, trovare il compromesso tra chi? Tra la competitività, perché è ovvio che il giudatore di più partite ti aiuta non tanto a livello europeo, di Elicy, ma a livello internazionale, basta guardare Cina e Corea che comunque da sempre hanno l'Elicy e in questo modo aiutano veramente tanto, hanno le best of three scusate, e aiutano veramente tanto ad ottenere poi i risultati a livello internazionale, perché girando molte più partite, è inevitabile che ti alleni anche molto di più su un formato più lungo, che poi magari ti aiuta anche e soprattutto per le best of five. Invece in Europa però l'abbiamo investito per un motivo, credo Andrea, poi tu mi voglio sapere anche la tua ovviamente su questo e poi iniziamo col PG Nationals, ma è un discorso comunque legato anche al PG Nationals che eravamo ancora pronti, noi in Italia, noi in Europa, perché serviva sempre un, come dire, vediamo se mi viene la parola giusta, serviva sempre di trovare il pubblico, perché è la cosa più importante. E sembra strano detto così, però giustamente il pubblico è che invece ad esempio in Cina o in Corea avrei già l'inizio, quindi non te li hai costruiti, perché c'è sempre stata una passione da anni sull'e-sport, sui gaming. Invece in Europa questa community di League of Legends che sta a seguire costantemente la devi creare e quindi devi trovare il pubblico. Io intanto il formato giusto che va bene per il pubblico, poi troveremo anche quello per il formato giusto che va bene per le squadre. Andrea, tu non so cosa ne pensi. Io sono completamente d'accordo con te. In realtà la formula delle best of 3 da appassionato e da spettatore comunque continuo è una formula che non disprezzerei, non disprezzerei assolutamente, perché comunque significherebbe vedere più partite, vedere più gioco e vedere partite che si vogliono vedere più spesso e vederle più spesso soprattutto. Immaginate di vedervi una settimana invece di avere il match of the week in cui si gioca un Rogue Fanatic, vedere una best of 3 su Rogue Fanatic che avrebbe un livello di competitività sicuramente maggiore. Però sono d'accordo sul fatto del pubblico. Ma il problema è che poi devi beccare anche una best of 3 di SK contro XL. Esatto, il problema è quello. Il problema è doversi sorbire la best of 3 di SK e XL. Ma ve li facciamo, guarda, le best of 3 solamente per i match of the week, anzi non of the week, di ogni play day, quindi un match al giorno che è il match del play day, la fai best of 3, tutte le altre è best of one perché è chi si è in culo. Esatto, sei stato sfortunato, sei stato eletto come match of the week, ti tocca fare una best of 3. Ti tocca la best of 3, esatto. Per lo spettacolo. Per lo spettacolo, sì, certo. E poi la chiamiamo Super LC, giustamente. Super LC, giustamente, la chiamiamo Super LC. E buttiamo, quindi da 10 passiamo a 5 squadre, se la giocano fra di loro e chi vince i figli. Sicuramente non ne risentirebbe lo spettacolo, sicuramente. No, no, no. Sicuramente, sicuramente, invece, sarebbe molto più complicato in questo momento per una lega, per una IRL, ancora di più per una lega come il PG National di League of Legends. Perché quello che non hanno le leghe, almeno sicuramente le PG National, non ha un tipo di fedelizzazione che porta ad avere dei tifosi, vedi e propri. A differenza dei tifosi che abbiamo visto riempire gli stadi per andare a vedere Fnatic G2, per andare a vedere i mondiali. Ragazzi, insomma, Faker in Corea è considerato un idolo al pari di Lebron James in America, più o meno. Quindi, in Italia... Faker, che lo dico subito, ha superato un altro record tra ieri e oggi, se non sbaglio, non me lo ricordo, magari mi aiuti e poi lo vai a recuperare, ma ha superato un tot di presenze, un tot di partite, record all time. Quindi poi ce l'andiamo a vedere. Poi ce l'andiamo a vedere, perché comunque parleremo di Faker, giustamente, perché... In Italia non ci sono dei roster fissi. Non ci sono dei roster che dici mi affeziona quel giocatore e quindi mi affeziona anche la squadra e mi va di seguire quella squadra con quel giocatore. Quindi la situazione è un po' diversa e sicuramente le best of three in questo ambito non aiuterebbero a fidelizzare il pubblico nei confronti delle squadre. Anche per le squadre si fa fatica, perché se noi andiamo a considerare quali sono, ad esempio, non dico fin da Lega prima o da quando c'erano altri tornei, altri campionati, ma si andiamo a prendere semplicemente il PG Nations. Quando esiste il PG Nations che è 2018, quindi Spring 2018 sostanzialmente, noi già siamo al quarto anno adesso, che sta per andare a concludersi, considerate che l'unica squadra ancora presente da quello Spring 2018 è una sola, sono gli Outplayed. Nel frattempo tutte le altre sono cambiate. La più antica, forse, insieme agli Outplayed sono i Cyberground, non quanto gli Outplayed, perché sono arrivati uno o due split dopo, forse addirittura, quindi addirittura forse nel 2019 sono arrivati i Cyberground al PG Nationals, poi tutte le altre comunque nel corso degli anni sono cambiate. Anche i vincitori stessi del PG Nationals. Abbiamo gli Outplayed che hanno vinto il secondo split, poi abbiamo Machko e Samson Monestas che hanno vinto gli ultimi due, in ordine temporale, ma mancano i Forge che avevano vinto il primo split, mancano i Campus Party Sparks che ne avevano vinte addirittura due, mancano gli YDN, quindi tutti quelli team, non puoi nemmeno affezionarti a un team. Io penso, ad esempio, quando ero piccolo, il primo anno quando avevo 4-5 anni, non mi ricordo esattamente, l'Inter forse vinse la Coppa UEFA, non mi ricordo quando ero il 90, iniziano i 90, mio nonno ti fava l'Inter e quindi iniziati a fare l'Inter, solo un anno. L'anno dopo vinse lo scudetto il Milan e iniziati a fare Milan. L'anno dopo vinse lo scudetto tra Juventus e iniziati a fare Juventus. Poi era abbastanza grande perché vide che era la squadra migliore al mondo e ho continuato con quella. E hai fatto benissimo. E ho fatto benissimo, ci mancherebbe. No, però il discorso mio è che, come potete vedere, magari un tifoso si può appassionare, si può avvicinare, anche perché magari una squadra vince, dici, ah, è figa, quindi si dà che è forte e inizio anche a guardarmela, a tifare per quella squadra. Cosa che sulle collegi non si sono, non puoi fare, perché una squadra vince il campionato e magari lo spedetto dopo non c'è più. Non fai manco in tempo ad affezionarti a una squadra che ha vinto un torneo, un campionato che non ce l'hai più. E quindi anche da questo punto di vista serve ovviamente più continuità, ma più stabilità. prima di tutto anche da un punto di vista economico ci mancherebbe. Su questo siamo ancora parecchio lontani, ma piano piano io vedo che la scena comunque c'è. Se faccio il paragone con tre, quattro anni fa, di passi ne abbiamo fatti tantissimi. Non siamo ancora dove vogliamo essere, ma sicuramente di passi ne abbiamo fatti veramente tanti, no Andrea? Esatto. E qui invece volevo portarti il mio esempio. Innanzitutto volevo salutare Bomber che è comparso. Ciao Bomber, grazie per essere qui con noi. E volevo portarti il mio esempio perché io sono una persona estremamente romantica, quindi la prima partita che ho visto di LEC sono stati i Fnatic, e da là è scoppiato l'amore per i Fnatic. Per quanto riguarda invece il campionato italiano, ora io non posso spingermi troppo a dire tipo questo, tipo quest'altro chiaramente, però la prima partita che ho visto dal vivo, il primo evento dal vivo, è stato a Cinecittà World ed era la finale fra Forge e Outplayed, vinta dagli Outplayed che poi sono andati a Leo Master e hanno fatto il regno. 3-0 tra l'altro. 3-0, esatto. E io ero lì. Contro tanti pronosti, ma non il mio, perché io credevo negli Outplayed. Esatto. Lo ricordo benissimo. E non solo questo, perché questo è stato il mio primo evento a cui ho assistito, ma la mia prima intervista in ambito League of Legends, in ambito eSport, è stata proprio a Pencil. Che... Ah, hai visto, e quindi c'è... Allora, non diciamo che è tifo... Non è tifo, però i colori, però la storia... Comunque il bianco e nero sono due colori molto belli. È una simpatia per gli Outplayed. Quindi noi eravamo allo stesso evento senza saperlo. Senza saperlo. Esatto. Ci siamo quasi conosciuti, ma non lo sapevamo. Beh, io in realtà già ti conoscevo, però questo è un altro discorso. Ah, però questo mi fa piacere. Ti salevo ancora... Non avevo il verificato, pensa. Non avevi ancora il verificato e quindi non avevi ancora 100 ore. 100 ore, la segno in bianco. Non vogliamo dire quanti. Ma segno in bianco. No, poi decide... Ognuno dice, io ancora non ho scritto niente. Ah. Ho scritto tanto. Poi non so per loro quanto significa tanto, però lo scopriremo. Piano 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 piano. Quando lo vedrete con una macchina nuova. Esatto. Quando mi vedrete con una macchina nuova, cioè fra una ventina d'anni sentirei che avevo fatto già abbastanza soldi con l'e-sports. No. Allora, detto ciò direi che possiamo iniziare a fare un piccolo recap, anche perché tra poco sono... Guardo qui perché se l'orologio ce l'ho qua, non ce l'ho da un'altra parte. Perché tra poco è il momento di Noodles. Facciamo un piccolo recap, giustamente perché avevo la situazione in questo momento al PGNations per quanto riguarda i playoffs. che forse, diciamo che in linea di massima in generale direi che non hanno sorpreso più di tanto in termini di chi è passato, però forse per come sono arrivate le vittorie sicuramente sì, qualcosa sorpreso. Qualcosa sorpreso. I Machuco, come potete vedere, ho messo dicendo sempre Machuco, quindi nessuno si può lamentare. I Machuco hanno asfaltato ovviamente gli Axolot 3 a 0, che poi ha asfaltato sul punteggio. È vero che il primo game gli Axolot sembravano anche un po' in vantaggio, almeno in termini di kill, in termini di oro, però la realtà dei fatti è che quello che vedevo io è che non erano mai, nonostante avessero un po' di vantaggio, non erano comunque in controllo di mappa. I Machuco riuscivano comunque a muoversi tranquillamente sulla mappa senza problemi e quando tu giochi contro una squadra, comunque sulla carta più forte di te gli lasci comunque il controllo di mappa, diventa complicato e difficile ottenere qualcosa che poi successe. Infatti poi ai primi teamfight del mid game sostanzialmente i Machuco hanno preso il sovravvento. Ciao, grazie, arrivederci. Il terzo game che sembrava invece una spianata pazzesca per quanto riguarda i Machuco è Axolot che si dipendono improvvisamente, i Machuco cercano in ogni modo di trovare quel game per darci una serie, regalarci una serie e iniziare con un 3 a 1 magari o 2 a 1, poi non si sa se diventava un 3 a 1 o un 3 a 2 per il 1 a 2 e invece 3 a 0 secco e per ora non a casa ma scendono nell'user bracket gli Axolot. e nell'altra semifinale di Winner bracket invece abbiamo avuto Outplayed e Gaia Esports. Outplayed e Gaia Esports che in questo caso hanno dato una vittoria sostanzialmente importante agli OP. io vedo segnali di panico e di paura quindi non so se mi si sente, vedo segnali di panico in regia, mi fanno ok. sul segnali di panico ti si sente perfettamente. ah ok, siccome prima dell'inizio della diretta abbiamo avuto qualche problema per causa mia e poi improvvisamente adesso vedevo il labiale di André che diceva audio audio e allora ho panicato un attimo e ho detto perché? ti spiego e ti fermo subito. c'era l'audio degli highlights che magari ti si sovrapponeva un po' e quindi stavo dicendo c'è l'audio lo devo mutare. ah ok, ok, meno male. ok, dicevamo. no, nell'altra semifinale dicevo io credo che comunque si sono fatti forza su delle loro potenzialità, delle loro abilità sicuramente però è anche vero Andrea che comunque i Gaia in questo momento e in questo periodo hanno difficoltà interne sostanzialmente sono solo loro, sono cinque giocatori quasi abbandonati a se stessi praticamente stanno cercando di fare gruppo ma è chiaro che si è visto come quelli che abbiamo visto nei playoff, soprattutto gente come Enzo e Robin che hanno una grandissima esperienza e che nei playoff abbiamo imparato a capire nelle best of five quanto siano forti, abili ed esperti pure. nonostante ciò un 3-0 che è forse un po' troppo severo per quello che stanno cercando di fare i Gaia. e poi la prima partita dentro fuori quella tra Samsung Money Stars e GG Esports e io questa l'avevo indovinata perché nonostante molti fossero anche ovviamente influenzati dal fatto che nell'ultima settimana di regular season gli SMS avevano vinto due partite su due contro i GG Esports, una di regular season e l'altra nello spareggio per decidere chi dovesse essere il quinto e chi ha il sesto posto arrivano i playoff e nella best of five sono i GG Esports, io questo lo immaginavo perché sui best of five lo so che i GG Esports hanno un buon coaching staff che li può portare davvero a fare cose buone e vincono e infatti 3-1 che in realtà sarebbe un pareggio, sarebbe un 3-3 ma ai playoff 3-1, per cui Samsung già vi salutiamo, vanno fuori Samsung il sesto posto per loro dopo il terzo posto dello scorso split, la vittoria nello split ancora precedente, adesso è un sesto posto ma credo che sia anche normale perché io l'ho visto come uno split di transizione giustamente, mi sembra anche giusto, non si può sempre andare a mille al PG Nation, sicuramente a competizioni di questo livello anche perché le altre squadre si attrezzano, dovevi batterti e tu cerchi di restare al passo, poi non è sempre possibile ma soprattutto io direi che era di transizione perché la prima esperienza come Headwatch per Platy, ricordiamolo e nonostante ciò io credo che per Platy sia stato un ottimo split in cui ha anche imparato veramente tantissimo sulla prima pelle come Headwatch, Andrea Sì, sono d'accordo, sono d'accordo anche perché in realtà di Samsung Morningstar si è visto anche con il passare del tempo durante lo split almeno, si è vista la crescita, la crescita si è vista e non neanche poco quindi secondo me ci sono dei buoni prospetti per una prossima season vediamo cosa cambieranno, come lo cambieranno, però possono prendersi questo split di transizione alla fine sono sempre stati al top, hanno sempre dimostrato di essere una squadra che voleva lottare per le prime posizioni e l'ha sempre fatto comunque nel loro anno di transizione, che possiamo definire nel loro spirito più deludente se si sono comunque qualificati ai playoff, a differenza dei makers che comunque... a differenza dei makers soprattutto ai makers diciamo che hanno un'eredità più pesante top 8 e home alters, relegation ma diciamo anche che i makers non ci sarebbero dovuti nemmeno essere in questo split ma andiamo avanti, non è un problema vediamo se c'è il nostro ospite, se è pronto, così lo tiriamo in ballo vediamo lui che cosa ci racconta visto che lui, oltre ad essere analyst, data scientist, ovviamente frigido di esports è anche analyst proprio nel commento, nel commentary del PG Nationals il nostro greco, che in realtà è italiano, mangia più pesto che feta, se non ricordo male anzi, il pesto se l'è pure portato a Berlino e nonostante ciò però ha pure chiesto scuse su Twitter a sua madre per aver utilizzato un altro tipo di pasta cioè non è che è una questione di pesto però per aver utilizzato un altro tipo di pasta con il pesto quindi proprio qualcosa di veramente importante e interessante allora vedo segnali contrastanti perché in questo momento non vedo ancora il suo video quindi in questo momento sembra non esserci e mi sa che in questo momento non c'è perché ricordiamo tutti che in realtà Noodles dove si trova in questo momento? Noodles è a Berlino ora tu mi dirai l'ho appena detto Andrea non hai sentito? Andrea si era prima scaricata la cuffia quindi Andrea ha cambiato la cuffia ma Noodles è a Berlino è in Gaming House con il G2 Esports e dovrebbe esserci a momenti arriverà sicuramente a momenti arriverà io so, mi ricordo ad esempio che lui solitamente si collega quando deve fare il streaming si collega dalla stanza di Jankos a meno che adesso finalmente non ha anche lui una stanza tutta sua per sé o comunque per lo staff da cui si può collegare eccolo qua infatti adesso lo vedo non so se lo vedono tutti ma io lo vedo sicuramente spero che mi senta pure Dimitri mi senti? io vi sento ci sono io ti sento ti vedo e tu mi senti e mi vedi perfetto Dimitri stavo intanto buonasera è un po' che non ci vediamo nei streaming buonasera è vero effettivamente qualche mese di sotto ci becchiamo un po' più con una certa frequenza però effettivamente è un po' di mesi esatto mi sa che manca qualche altra maglia dei G2 c'è un po' di spazio vuoto no in verità è perché l'ho lavate entrambe ed asciugare giuro che non è per ah ok ok ma è la cambio ogni settimana ogni settimana ne metti una nuova? in teoria ne ho due le alterno diciamo ne lavo una per volta però visto che la settimana scorsa non sono andati in studio mi sono dimenticato di lavarle e quindi adesso tipo ho detto oggi c'è lì sì e c'è le maglie sporche ma oggi non sei in studio però se non sbaglio oggi no però comunque porto la maglietta e invece domani domani sì invece perché domani avete tra l'altro il match of the week se non sbaglio domani esattamente contro i Misfits contro i Misfits sì esatto anche se ho letto un po' di polemica su questo perché molti si aspettavano come match of the week forse anche giustamente i fanatic contro l'Ogro semplicemente perché comunque sono le prime due in classifica in questo momento guarda io sono d'accordo perché ogni tanto giocare alle 6 e poter finire la giornata alle 6 6 e mezza invece che alle 11 di sera non mi dispiacerebbe sinceramente però penso è una questione di viewers cioè c'è poco da fare noi facciamo molti più viewers che anche dei fanatic parlo solamente perché avendo preso Reckless una buona parte della fanbase dei fanatic è passata da noi quindi facciamo tante più views ti vedo in forma nel gettare fiamma su fuoco è proprio alla grande ma perché c'è la convinzione che io flammi soltanto quando vinco io flammo sempre sono inarrestabile da questo punto di vista non mi importa se vinco se perdo io rilancio sempre bravissimo mi sembra giusto tra l'altro non so se tu lo sai se ti ha confidato ma Andrea accanto a noi è un fan dei fanatic è un timore dei fanatic quindi ops forse a saperlo prima forse non venivi ma io mi sto correndo la mia settimana insomma voglio dire è stata una bella settimana è iniziata molto bene sabato finita pure meglio finita male diciamo però posso dire è incominciata bene effettivamente perché era scorsa settimana è finita male per noi però effettivamente dai qualche BO1 la facciamo vincere poi al volo poi torniamo magari un po' sull'elissi però al volo solo una cosa giusto per zittire anche un po' le polemiche che ci sono state settimana scorsa ma quella pausa al centro di fight quando in realtà da regolamento teoricamente quando possibile ovviamente non si dovrebbe pausare ma secondo te ha cambiato davvero qualcosa o come penso anche io come gli stessi esponenti dei G2 che si sono esposti anche un weekend hanno detto non è vero non c'entra nulla abbiamo verso che abbiamo verso punto allora io non penso che abbiamo perso per la pausa sia chiaro cioè perché la pausa c'è per entrambi i team trovo e detto ciò quindi non penso sia un fattore che di per sé ti va a influenzare di stata la partita ma penso comunque che abbia influenzato il singolo fight magari perché toglie un po' il momentum toglie un po' quello quindi non dico che avremmo vinto la partita con quel fight magari avremmo preso una due chili in più ne abbiamo perso una di meno chi lo sa è difficile anche da dire detto ciò secondo me a livello logico se c'è stato un bug il crono break te lo fixa comunque anche se pausi dopo 10 secondi non è che devi pausare nel secondo in cui c'è un team fight finisci il team fight e poi pausi ma d'altro canto però non c'è neanche un regolamento che dica chiaramente se fai se pausi in mezzo a un fight è penalità quindi i fnatic hanno avuto il diritto di farlo la mia critica è semplicemente magari mettiamo una regolina che si aspetti la fine del fight prima di pausare perché se succede due volte in una partita magari incomincia anche un po' più che altro a triggerare magari una persona che è più facilmente triggerabile più una questione proprio di linearità della partita secondo me non dico poi che sia una anche perché c'è una muta anche loro la pausa non soltanto noi quindi è proprio una questione per lasciare tutti i player nella più nella miglior nel miglior mental possibile senza interromperli il fight a metà ma infatti anch'io ricordavo poi dove andero a controllare perché sicuramente qualche anno fa mi ricordo perché poi l'avevo utilizzata anche per il regolamento di lega prima io mi ricordo che c'era una regola che diceva che non si poteva assolutamente o forse l'abbiamo inserita solo su lega prima non lo ricordo ma comunque una regola che vietava di mettere in pausa una partita durante il team fight mi ricordo che ci fosse poi ovviamente questo team fight si ferma tutto e si controlla tutto quello che c'era ma questo è un altro risposto poi sicuramente questo crea un precedente importante che sicuramente il Maximilian Peter Schmidt della commissione delle liste sicuramente andrà ad approfondire e a sistemare allora andiamo un attimo per un po' al PG Nationals adesso in sede di playoff per te sono andati come pensavi o qualcosa è stata una sorpresa una delusione diciamo che non sono stati il primo round di playoff più emozionante della mia vita se posso essere sincero un po' per più questioni ovvero che le prime due serie non sono state per niente close mi aspettavo perlomeno gli Axolotl arrivare con un livello più convincente invece sono stati veramente dei cadaveri in quella serie se posso essere sincero cioè non si capiva bene cosa volessero fare quando volessero fare cosa ed è su me è emerso un po' un problema che si portava dietro a tutto lo split che però col cambiare del meta verso un meta ancora più aggressivo adesso evidenzia ancora di più le carenze di Roison come la botta non si è abituata a giocare su qualcosa di aggressivo su qualcosa che vuole impostare la giocata per prima e come il suo Ploxy comunque sia un jungle che dipende tanto dalla squadra è un jungle che ha bisogno di una squadra solida per performare effettivamente a un livello convincente e poi invece non si è abituato no no chiudiamo giusto per chiudere il discorso degli Axelot con i match io in generale ho visto degli Axelot che mi sono sembrati uguali dall'inizio fino a questo momento dello split solamente che all'inizio le altre squadre magari ancora non avevano ben chiaro il meta magari avevano bisogno di allenarsi un po' di più anche perché ricordiamo che gli Axelot sono stati la squadra che ha iniziato a sfirmare e allenarsi prima di tutto perché era quella che già a inizio praticamente quasi un mese prima praticamente tre settimane prima all'inizio del campionato era già pronta tutti firmati tutti pronti e quindi sono quelli che hanno iniziato a sfirmare e allenarsi sempre di più però mi sembra che siano rimasti sempre gli stessi e penso che sia un po' un problema anche di identità molto ben definita da parte di certi player quindi è molto facile raggiungere un livello buono però quando poi si cerca di portare ogni singolo player al di fuori di quella classe zona di comfort vediamo un po' di problemi soprattutto appunto per quanto riguarda Royzon che è in un meta che è totalmente opposto rispetto a quello che è stato il meta che è il meta che diciamo lo aiuta di più lui è uno da control mage da long range champion questo è un meta invece da melee champion bruiser assassin quindi non è proprio il meta da Royzon nonostante io penso sia stato uno degli MVP all'interno del regular season quindi un cambio molto veloce che ha evidenzato un problema in casa Axolotl ma penso che ci sia il tempo per lavorarci per cercare perlomeno quei due o tre pick che magari possano dare un po' più di spina dorsale a questa formazione dall'altra parte invece l'altra semifinale di winner bracket abbiamo avuto Outplay contro Gaia Esports e noi l'abbiamo detto Gaia in questo momento stanno vivendo i giocatori almeno sicuramente in una situazione non felicissima internamente credo che forse questo un po' si sia visto al di là dei valori che i giocatori hanno perché comunque parliamo di gente come Enzo e Robin che ha fatto delle best of five il loro marco di fabbrica e che hanno sempre performato bene e gli altri giocatori non è che sono scarsi voglio dire assolutamente ma penso che per i Gaia so che ci sono stati un po' di problemi interni di diverso tipo oltre che a livello di Orga anche a livello interno della squadra stessa sono stati un po' di altri problemi che adesso non sto qua a elencare per motivi di privacy diciamo però ci sono tanti scusanti per questa squadra che verranno svelate poi al momento opportuno penso che questa se fosse una squadra partita molto bene dove però hanno avuto un pavimento che frullava sotto i loro piedi diciamo era molto difficile continuare a avere una struttura quando non scrimi per un mese è molto difficile avere una struttura quando ci sono altri problemi che vanno comunque a inficiare la performance della squadra abbandonati a se stessi sarei dire quasi 5 giocatori abbandonati a se stessi esattamente più so che c'è un coach che comunque ce la mette tutta poverino ma non può fare uammenarmi hai bisogno di un manager hai bisogno di gente che ti aiuti comunque in quello che è il tuo lavoro quindi fanno il meglio che possono non si sa perché è un po' una storia un po' shady questa qua dei Gaia diciamo e spero che a fine stagione ci saranno le opportune indagini se verranno presi gli opportuni provvedimenti esatto per fare in modo che non avvenga più una situazione di questo genere esattamente gli OP comunque a prescindere da questo li ho visti veramente in forma gli Outplay una forma che prosegue dall'ultima settimana di regola season tra l'altro e una cosa molto interessante per gli OP secondo me anche vedere la crescita di Patkiza che è un giocatore che è stato a lungo visto semplicemente come il weak side della squadra quello che metti sempre a prendere pugni in faccia per 20 minuti e poi vinci la partita in questa serie invece hanno sfruttato molto bene le risorse messe in corsa superiore col pick di 7 in game 2 e poi ricordo che in game 3 ha preso Camille se non sbaglio entrambi i game comunque ha avuto delle performance molto molto solide quindi sono contento di vedere Patkiza in una condizione di forma e questo si riflette anche in come giocano gli OP tutti insieme quando anche Patkiza riesce a su una lane vincente ha ID Ace in corsa centrale che è molto aggressivo che mette sempre sotto pressione nel mid lane dell'avversario e una bot lane che può essere indipendente può essere anche carry in quick set e raito quindi penso che questi OP siano al momento l'unica vera rivale e la favorita che sono in match con l'ispo quindi questa finale con il winner bracket insomma è meritata diciamo per quello che abbiamo visto in questo momento e dell'uscita dei Samsung Monist aspetta Francesco ti interrompo un secondino proprio un attimo solo perché c'è Thomas Monsard della chat che probabilmente si riferisce a quello che dicevate prima dei Gaia per quanto riguarda i Gaia chiede come si evita un episodio di questo genere assumendo persone che sapendo lavorare in maniera professionale all'incima la società non i coaching staff dei Gaia ma gli executive della società dei Gaia quelli che prendono decisioni quelli che dicono come suturiamo questo org per questo PG Nationals prendi uno un general manager che sappia fare il suo lavoro che sappia tenere tutti in mano oppure il CEO che fa questo lavoro non so però quello in testa deve sapere fare il suo lavoro un po' flame forse come risposta no possiamo anche dirlo con un po' di moralità in più un senso della moralità un po' più sviluppata questa più di altro è la diciamo la soluzione interna che dipende anche questa volta è dipesa anche dal fatto che si è partiti con un progetto e poi si è cambiato idea in corsa andando a ribasso e questo ovviamente va a creare problemi però c'è anche la soluzione esterna secondo me che non può essere sottosalutata cioè il fatto che siamo arrivati a un punto probabilmente in cui ogni nuovo ingresso all'interno del PG Nationals in una lega come il PG Nationals deve essere monitorata devi presentare delle garanzie in Spagna praticamente nella Superliga che non è una lega chiusa come lo è l'LFL francese ad esempio ma nonostante non sia una lega chiusa di fatto è come se lo fosse perché come se lo fosse scusate perché per entrare nell'LVP nella Superliga è praticamente di fatto è impossibile sono sempre le stesse perché devi sottostare a parte vincere circuiti su circuiti per poi salire ed eventualmente arrivare a promotion poi devi anche sottostare tutta una serie di controlli e di garanzie che tu devi dare che di fatto solo quelle 10 squadre 8 non ricordo no dovreste 10 forse non ricordo solo quelle squadre che già ci sono ok perfetto solo quelle 10 squadre che già ci sono si possono permettere di essere lì quindi è di fatto come se fosse un franchising in Italia forse è arrivato il momento non di fare un franchising che ci mancherebbe perché ancora i tempi non sono maturi ma sicuramente di iniziare a mettere dei controlli a monte per offrire garanzie ma a tutela ovviamente dei giocatori del coaching staff ma a tutela della competizione stessa perché poi diciamocelo chiaro se succede una situazione di questo tipo è anche la competizione stessa che ci va a fare una brutta figura io sono d'accordo su questo e penso che ci deve essere non dico come dicevite un controllo come in Superliga a quel livello perlomeno perché le realtà affermate in Italia sono molto poche ma per la meno avere un controllo per dire il budget per pagare i giocatori e lo staff ce l'hai senza aver bisogno per aspettare per i soldi di PG perché i soldi di PG non sono non sono dati per pagare gli stipendi sono un indennizzo che deve arrivare però devi avere già di per sé una realtà che possa permetterti di andare avanti nel campionato devi prendere il rischio di imprese sapere bene quello che vai a rischiare quando metti su una squadra e avere delle garanzie per far dire al tuo ornamento organizer ok questa squadra vale la pena dell'investimento però deve essere entrambe le parti cioè PG deve mettere regole più stringenti e deve anche essere brava a farle mantenere deve essere brava a intervenire quando c'è un'infrazione in maniera tempestiva e su questo sicuramente c'è da migliorare anche da parte loro sì sì questo sicuramente allora passiamo adesso a Samsung Monistans contro GG Sports il primo dentro fuori appunto e ci sono altre domande Andrea o possiamo possiamo cominciare per il momento per il momento puoi parlare di cancel è l'unico game durato più di tre esatto tra l'altro è l'unica serie abbiamo avuto una serie finalmente e insomma questi Samsung ripeto ne abbiamo parlato prima con Andrea secondo me sono andati sempre increscendo in questo split e soprattutto poi da quando è arrivato a Biro ovviamente ha portato quell'esperienza o quel gioco un po' più frizzantino in più che serve magari in un meta come questo però al tempo stesso poi non sembra essere bastato contro i GG Sports che invece sono lì poi a imporre e che forse potrebbero fare un altro miracolo io ieri l'ho detto su Twitter visti gli Axolot dell'altro giorno anche se giocavano contro i match che quindi è da prendere con le minze quella prestazione ma visti in generale i match dell'ultimo periodo e scusate gli Axolot dell'ultimo periodo e vesti questi GG Sports e non lo so se gli Axolot ce la vedranno così facile perché sarà il prossimo scontro sarà questo perché i Axolot sono arrivati i quarti quindi sono nel prossimo round sono nel quarto seed e ce la vedranno contro i GG Sports e sono d'accordo con quello che dici perché tra l'altro i GG Sports a livello di matchup stilistico se non avranno un vantaggio contro gli Axolot penso che gli Axolot siano il miglior avversario dal punto di vista puramente stilistico per questi GG che sono un team che punta molto a premere l'alceratore ad andare avanti e non lasciare spazio all'avversario quando è venuta l'opportunità e i Axolot di per sé non sono la squadra migliore nel mettere filtri nel ring game e non concedere spazio all'avversario loro ti concedono lo spazio che pensano a loro lasci comunque l'opportunità di rimettersi in partita più avanti secondo me appunto dicevano prima inizio campionato riuscivano a calcolare meglio quanto fosse effettivamente questo spazio che potevano lasciare invece molte volte adesso li vediamo lasciare un braccio pensando stiano lasciando soltanto un dito quindi devono un po' trovare una quadra anche gli Axolot e se non la trovano i Gigi potrebbero tranquillamente fare il colpo basso anche se penso che ieri molto l'abbiano messo molto del loro siamo su Morningstar sia a livello di performance individuale sia a livello di lettura della serie penso che la crescita all'interno della serie stessa non sia stata a livello di quadri di Gigi eSports ecco penso che anche a livello di coaching staff secondo me questo split fosse un po' la prova di plati perché aveva fatto con un roster senza grandi personalità all'inizio parliamoci chiaro aveva preferito magari sedial a Enz aveva preferito magari aveva lasciato fuori un cole per poter prendere un Ciosi quindi gente che ha meno voce perché sappiamo Enz e Cole essere molto vocali e cercare di impostare più una propria linea di gioco cosa che non sembra aver pagato e si è visto poi col cambiamento quando ha messo dentro Virau perché Virau è un giocatore invece che parla tanto è un giocatore che ha le sue idee e vuole che le sue idee vengano seguite quindi forse questa prova del 9 da parte di plati è stata fallita penso che gli serve ancora un po' più di tempo magari come assistant coach magari cercando di prendere responsabilità poco per volta perché la gestione totale di un team secondo me non è stata a livello perlomeno visto da fuori per flammi tu non flamma proprio nessuno è proprio vero vabbè con la flamata con un po' di diplomazia perlomeno no ma almeno no ma scherzo perché in realtà queste sono critiche costruttive cioè non è che sono critiche in cui uno va a insultare qualcuno e ci mancherebbe anzi no perché è giusto secondo me una piccola domandina ce l'ho sull'ultimo game di Samsung GGE perché l'inizio di quel game sembrava che avrebbe voluto portare a una serie cioè i Samsung erano in un vantaggio incredibile erano avanti ovunque su qualsiasi lane e poi al primo fight sono crollati una volta al secondo fight sono crollati di nuovo i GGE hanno ripreso terreno e hanno chiuso la serie pensi che anche quello possa essere un errore da parte di Vali ma vanno tipo 8-9 11-0 8-0 ok quello penso sia un po' legato a quello che ho detto anche ieri all'interno dei podcast di PG ovvero che entrambe le squadre parliamoci chiaro non sono del livello più alto che abbiamo mai visto al PG Nationals fanno tanti errori e la comp che avevano ieri i GGE paradossalmente è una comp che non imposta la mappa non è la comp che ti prende passato della mappa ma quando hai Leona un Outilus quando hai Kaiza quando hai tutti questi pick che riescono bene mi sembra che avessero anche Silas adesso non ricordo bene avevano questa combo di campioni che permetteva di ruotare molto velocemente sull'avversario e punirlo e sai che i Samsung prima o poi un errore te lo fanno di questo tipo quindi l'abbiamo visti molto reattivi non nel punire in maniera passiva nel aspettare che gli corressero addosso gli SMS a prendere il fight ma impostare una reazione appena vedevano se di fuori posizione appena Virau era attaccato al suo carry per tenerli in vita a quel punto vedevi i GGE a partire come i treni e su me questa è la chiave di lettura di questa serie da un certo punto di vista i GGE sono stati molto più pronti quando c'era da prendere la palla al balzo mentre i Samsung sono stati prendere più volte impreparati nel momento decisivo quello è stato sicuramente determinante da questo punto di vista settimana prossima ovviamente si continua con i playoff del PG National se tu l'hai detto prima hai anticipato qualcosa secondo te in questo momento gli Outplayed sono forse la candidata numero uno a poter mettere i bastini in favore dei match che sono ovviamente i favoriti fin dall'inizio sono campioni in carica è giusto così ma gli Outplayed hanno davvero delle armi quali sono le loro armi migliori o magari quello che abbiamo visto in questi playoff sono un po' delle prestazioni bugiarde visto che i match hanno affrontato degli Axelot un po' in rimessa e gli Outplayed hanno affrontato dei Gaia che hanno la testa altrove penso che sia molto difficile decifrare questa serie prima di vederla perché come hai detto te entrambe le squadre non hanno avuto un avversario che li abbia testati fino in fondo penso però appunto che i match arrivino da favoriti in questa serie più che altro per una a un livello di completezza che hanno nel loro sede di gioco in questo momento anche Bush e Click ormai sono al pari dei tre che c'erano già nello scorso split si vede nell'ultimo girone sono insieme infermabili questi match sembra veramente un'altra squadra gli OP come dicevo sono l'unica squadra che secondo me ha una possibilità di fermarli ma li vedo comunque a priori con un 20-30% di possibilità quindi non zero ma comunque dovrebbe essere pesantemente favorita dovrebbe vedere pesantemente favoriti per quanto per quanto mi riguarda senti ma quanto è diventato forte Sebex Sebex più che altro sta facendo vedere un po' quello che è il sostegno tu sei il suo meta magari anche il suo meta però secondo me si può fare un parallelismo tra Roison e Sebex perché sono da un certo punto di vista dei giocatori che simili e diversi perché hanno un champion pool molto particolare entrambi ma secondo me Sebex ha un livello di evoluzione molto più alto rispetto a quello di Roison e Sebex sta capire ok in questa serie Nasus Mid può essere fattore determinante lui si va a piccare Nasus Mid non gli interessa e sa che effettivamente quel pic è molto forte invece Roison va un po' di default sui suoi picchi perché sono gli unici che ha non ha una champion pool particolare ma una champion pool di stretta secondo me invece Sebex ha una champion pool particolare che sta allargando sempre di più e sta riuscendo a mettere in luce anche dei pic originali suoi come appunto la sua Annie che ormai viene anche bannata molte volte la sua Tristan e sta per tutto lo spring il terrore del PG Nuts e adesso stiamo vedendo appunto tirando fuori qualsiasi cosa dal Nasus Mid anche le champion campioni piumi lì fino a i suoi dichiari tradizionali in Ezra e Trisana quindi comunque un giocatore veramente poliedrico che è non plus ultra forse per questo PG Nuts e soprattutto non lo metti in difficoltà con i bann perché puoi bannargli quello che vuoi ma tanto trovi comunque qualcosa che poi funziona esattamente esattamente questo è pronto per il suo modo molto particolare di intendere il meta di vedere cosa può essere un pick che può essere molto visto mai da una squadra messo in mano a Sebeck che diventa improvvisamente la chiave per vincere la partita secondo te è pronto per fare il salto non dico nel sì ma in un'altra IRL maggiore o magari il PG Nuts che gli permette anche come livello di poter fare questo penso che Sebeck sia un giocatore ma è molto esperto e che il PG Nuts sia effettivamente la sua dimensione sia un po' secondo me in una lega ad esempio in LFL i pick di Sebeck potrebbero essere molto più contestati da giocatori di 18 anni che all'anno prossimo sarà in LEC e con un ceiling meccanico che magari non vediamo spesso qua in PG Nuts quando giocatori invece magari non così brillanti a livello di meccanica non per forza scarse attenzione perché qua comunque parliamo dei migliori giocatori d'Europa ma non necessariamente così che ti testino così tanto a livello meccanico Sebeck se me riesce veramente a dire la sua in maniera egregia e poi avremo appunto GG Esports contro Axolo 3 la vincente di queste due la perdente va a casa la salutiamo addio la vincente di queste due giocherà poi con Igaia ma secondo te fra queste tre chi è che è la favorita diciamo per il terzo posto perché credo che nessuno di questi tre forse può ambire a qualcosa di più del terzo Penso che sia molto difficile da dire ma per semplicemente un po' per qual è il mio filone filosofico per quanto riguarda l'lower bracket per l'lower bracket è un po' un giro infernale in cui tutti hanno l'opportunità di redeemersi Tu ne sai qualcosa tra l'altro è vero è sempre andata bene tra l'anno scorso split dove abbiamo preso un po' uno scivolone diciamo ma tendenzialmente è un giro infernale era un giro in semifinale però è anche vero che alla fine tutte le squadre hanno fatto tanti errori e una serie aperta tra zero ti dice tante cose ti dice tante cose che hai sbagliato che puoi migliorare quindi è difficile dire effettivamente chi potrebbe essere la candidata alla top 3 secondo me dipenderà molto da come ciascuna delle tre squadre non riuscirà a prendere la sua identità in questo meta perché i Gigi l'abbiamo già fatto capire quello che vogliono fare devo vedere prima quello che vogliono fare Axloth e Gaia per capire come potrebbero andare però a livello puramente intuitivo penso che i Gaia visto l'assenza di un coaching staff vero proprio sono probabilmente gli sfavoriti perlomeno in questa corsa e qui io ti giro perdonami Francesco ti giro la domanda di Ludox dalla chat ciao Ludox benvenuto chiede i Gigi hanno overperformato oppure hanno solo lavorato bene in questo periodo penso che abbiano giocato semplicemente da Gigi cioè abbiano avuto la performance che hanno avuto praticamente due settimane fa con il margine di crescita che avevano due settimane quindi sono sempre loro hanno avuto un adattamento sicuramente più adeguato al meta della 11.14 e penso che però se l'hanno derivato anche da dei Samsung come ho detto che non hanno letto bene lo sviluppo della serie quando parti comunque mi sembra fossero 1-1 se non sbaglio perdo due game nel modo in cui l'hai perso voglio dire proprio che hai fallito ad adattarti e la draft di game 3 secondo me è veramente un regalo è un 2-1 regalato quel Rumble Top in R5 contro Mundo contro Rando Lulu nel resto della top 6 della mappa se non me era veramente aberrante era un regalo che ha agevolato la vittoria della serie a IGG Sports perché è giusto sperimentare ma nemmeno troppo ecco sperimentare forse fino a questo punto sperimentare diciamo che prendere un campione senza CC contro un campione che letteralmente si rigenera e che ha uno spell shield che non riesce di essere slow a tutto quanto probabilmente non è una scelta molto sensata nel in quello che vuoi fare interno della serie ecco giustissimo Andrea ci sono altre domande? no la chat per ora niente perfetto allora vado io anche se già sono le 4 ma tu dimitri se quando devi andare a fare 10 minuti penso di poter stare ok no perché io volevo chiederti ovviamente tornando adesso un po' alle lì ovviamente quello che puoi dirci nel senso è chiaro che penso che molti siano curiosi di capire cos'è che quest'anno non sta andando in questo split in particolare non sta andando magari in GQ Esports anche se io dico non è che i due split precedenti fosse andato tutto rose e fiori eppure comunque uno l'avete vinto e l'altro siete arrivati terzi quindi forse si esagera un po' prima sicuramente ci sono delle difficoltà oggettive GQ Esports raramente 0-4 consecutivo però non succede cioè nel senso alla fine anche nell'ottica del gioco avere delle settimane in cui le cose non girano bene come in altre alla fine abbiamo perso 0-0-4 comunque vuol dire tutto e vuol dire niente perché ne abbiamo per la partita andata contro i fanatic alla fine c'è costata per un fight stessa cosa vale per quando abbiamo facciato il drago e eravamo 3k avanti e da lì poi la partita era molto difficile da vincere per la draft in sé stessa cosa può essere applicata anche la partita contro i Misfits quindi dove eravamo i 10k e poi quindi potrebbe essere tranquillamente un 2-2 con un po' più di con un po' più di non vuole dire fortuna perché non è fortuna assolutamente ma basta veramente visto che sono qua non credo onestamente io non credo su questo perché secondo me molti vedono le cose in maniera assolutamente catastrofista voglio dire penso che semplicemente ci sia un po' lavorando ancora sull'identità di questa squadra stiamo comunque migliorando e dopo la sconfitta nello Spring Speed abbiamo avuto secondo me un po' la realizzazione che non potevamo essere gli stessi G2 creavano con Perth perché siamo persone diverse semplicemente cioè non puoi se ti sposi se sei sposato con una persona e poi ti sposi con un'altra non puoi pretendere che la moglie conquista sia quella con cui eri prima è cambiato la relazione è cambiato totalmente il modo non totalmente è cambiato parzialmente il modo di vedere le cose quindi devi un po' adattarti a livello di squadra capire quali sono le cose che puoi fare per mettere a più agio tutti i player e penso che stiamo arrivando a una quadra abbiamo capito nelle ultime settimane cosa ci porta effettivamente a performare meglio è arrivato anche Nels finalmente a Berlino io penso che l'obiettivo nostro se alla lunga è quello di nei prossimi anni di vincere il mondiale o anche quest'anno di vincere il mondiale si deve lavorare in maniera non per inseguire la vittoria in best of one venerdì ma per effettivamente avere una crescita a livello di squadra è quello che stiamo avendo sicuramente quindi sono soddisfatto del percorso che stiamo avendo come G2 e so che per i fan è diverso perché non vedi G2 vincere tutte le domenze tutti i sabati tutti i venerdì se siete abituati a male è colpa vostra però è anche sbagliato pensare che gli avversari stiano per tre anni a guardarti vincere senza fare niente sono giocatori che perdono da tre anni che non vogliono più perdere e te sono tre anni che vinci e ci sta anche che come c'è il suo scorso spito qualcuno avesse più fame di noi ora la fame è tornata però devi riabituarti ad avere fame perché quando non hai fame per tre anni è anche ci vuole anche un po' di tempo per entrare in quella mentalità da dire mentalità di grinding diciamo e sicuramente abbiamo pagato un po' il prezzo noi però adesso siamo entrati più su quel binario e penso che perlomeno quando arriveremo ai playoff saremo a pieno registro e l'obiettivo è perlomeno arrivare ai mondiali con l'obiettivo minimo l'obiettivo è sicuramente che ci renderebbe soddisfatti quello di vincere lì sì senza mondiali però sarebbe effettivamente non dico un fallimento un fallimento una delusione una delusione prima di passare alla linea di Andrea per l'ultima sua domanda della chat o personale lascio a lui decidere ovviamente su questo Andrea che nel frattempo per farti lo sgarbo ha perso ho visto la maniera di fanatic però non commento non commento si è materializzata da sola io non accettro niente alla sala piace cambiare si è materializzata ovviamente certo lo capisco si è materializzata io volevo avere una piccola curiosità perché tu finalmente è una stanza tua da dove poter streamare o vuoi essere sempre la stanza di Yankos no allora io adesso vivo per i fatti miei non vivo più in gaming house ah questo non è in gaming house ah ok no alla fine oggi sono da casa ah ok vado in gaming house dopo l'intervista appunto mi preparo vado per la partita passo a comprare un regalino a Yankos che oggi è il suo compleanno poi vado si e porta i nostri auguri ho visto che c'è un negozio polacco gli compro qualche biscotto polacco che mi sento considerare anche dalla mia ragazza che polacco anche lei quindi ho detto quali sono i biscotti di infanzia polacchi scusami 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 da quando tu hai una ragazza fermi ormai sono tipo 6 mesi ormai è effettivamente un po' di tempo è dall'ultima volta che ci siamo visti che ci siamo parlati praticamente è effettivamente vero hai anche ragione te era eh sì ci siamo visti di volta ah complimenti grazie grazie mille fra complimenti no no mi fa piacere ok ma clockwork la conosce l'ha presentata lei lui no no non la conosce però penso che lei abbia visto clockwork perché qualche volta abbiamo fatto qualche podcast io clockwork e quindi lei vedeva però non penso si erano mai parlate effettivamente va bene va bene Andrea lascio a te l'ultima domanda davvero così quello liberiamo io in realtà ne ho due domande una è molto veloce una è sempre di Ludox che ci chiede se Jankos è sempre così come in streaming oppure in real life è diverso ma è letteralmente sempre così è questa la cosa divertente di Jankos cioè e noi l'abbiamo anche è per quello che comunque lo adoriamo esatto cioè è un tesoro Jankos è un tesoro nazionale per la Polonia è un tesoro di squadra per noi perché è a livello di atmosfera proprio aiuta un sacco anche quando magari perdi la partita è il primo che fa la battuta è il primo che comunque tira un po' sul morale e poi abbiamo della gente che quando c'è qualcuno che tira sul morale è molto brava a seguire anche Caps stesso magari è un po' triste però è uno che segue molto bene Jankos con la tira sul morale vale per Miki vale per Wunder anche Reckles sta comunque prendendo molto la mano in questo quindi è sicuramente un una persona fondamentale dentro del nostro spogliatoio il il buon Marcin e questo aiuta anche a costruire una bella atmosfera di squadra giustamente l'altra domanda invece è mia è un pochino un pochino diversa perché ho messo la maglietta della fanatica apposta perché stavo per farti un complimento quasi per quanto riguarda i G2 tu non lo sai ma credo che gran parte del pubblico italiano si sia affezionato ai G2 Esports anche e soprattutto grazie alla tua presenza all'interno della squadra adesso la domanda è quanto tu stai portando dell'Italia all'interno di G2 per esempio per esempio il tweet di Ocelot che fa i complimenti in maniera molto tranquilla all'Italia sulla vittoria dell'europeo no? la cosa nasce ma soprattutto quella parola chi gliel'ha insegnata? giuro che non c'entro io giuro avrei voluto centrarci però purtroppo non è non so a voi esattamente allora per quanto riguarda invece il mio apporto dei per l'Italia G2 io sono uno che cerca comunque di nel mio picco di proporre cose ad esempio sono usata a dirgli ma perché facciamo anche la maglia per l'Italia cose così e sicuramente comunque avrei in futuro io a me fa piacere comunque che ci sia questo legame con la community italiana perché non voglio diciamo tirare shade su Jizuko e così però a me non è piaciuto tanto quando lui è passato in l'alysis e si è dimenticato di noi completamente io sono fiero di quello che ho fatto anche qua in Italia delle persone che ho conosciuto di chi di chi è intorno a me e quindi voglio portare un po' di Italia intorno a G2 detto ciò comunque non è facile perché purtroppo la community italiana non è grossa come quella di altre nazioni non è grossa oggettivamente come quella spagnola come quella francese e quindi è anche difficile avere dei contenuti magari proprio apposta per Italia apposta per per noi almeno al momento se effettivamente c'è modo per crescere e far crescere questa community sono un dei di anche sicuramente prima o poi ci sarà questo cambiamento vabbè abbiamo appena vinto l'europeo ho idea della quantità di meme che puoi spornare con le maglie di G2 vero vero ma infatti voglio buttaglierla anche lì poi la prossima volta che vedo Carlos e dico ma alla fine basta prendere quella francese cambi il verde col blu non è che dobbiamo fare neanche un lavoro di redesign ci metti 3-20-10 minuti e fai fedici una nazione cosa vuoi guarda io qui lo dico e poi anche dei soldi io qui lo dico e qui lo sto facendo come promessa per me ho detto prima che non l'avrei mai fatto tu puoi dire a Carlos che un tifoso di Fanatic potrebbe comprare una maletta di G2 se la facesse dell'Italia per me questo sai che è veramente il modo per convincere lo so che è il modo per convincere la prendo anch'io la prendo anch'io subito la seduta stante allora dai Andrea direi che possiamo salutare Dimitri che è stato gentilissimo per stare qui con noi Dimitri ovviamente mi raccomando la prossima volta la pasta giusta col pesto no ormai gliela ho fatto un bel po' di bozza con sale ah la pasta non i ricadoni la pasta hai ragione cioè per me andrebbe bene comunque però mi sembra di capire che tua madre non sarebbe molto d'accordo sull'eredità che si sta lasciando voglio dire ma infatti non l'ho fatta vedere così almeno l'hai non lo sapeva è bravo hai fatto vedere sulla parte iniziale poi il piazzo ma potremmo il pesto diciamo mamma oggi faccio il pesto però non ho fatto vedere la foto della pasta così non speva niente dimitri ancora una volta noodles come sempre ma come tutti gli obiettivi lo conoscono analist data scientist per il ct sports ma analista al commento anche per il pg nation grazie mille dimitri grazie mille a voi per l'invito è stato un piacere grazie a presto a presto buon proseguimento e buon weekend ciao ciao grazie mille a te a voi è un boccaluto grazie come sono allora torniamo noi d'andrea torniamo io a te coppia non siamo più un triangolo e direi che comunque ho lasciato andare tanta roba tanta carne sul fuoco sì sicuramente e allora ovviamente non siamo arrivati a chiedergli consigli per il fantasy ah no ecco pazienza giustamente siamo andati un po' lunghi però chiacchiare con lui fa sempre piacere e prima di passare però all'elissi diretto prima di fare il fantasy lissi poi anche un attimo voglio ovviamente rivedere almeno le cose più importanti della settimana scorsa di cosa è successo ovviamente G2 fanatic in realtà Nudo se ne ha già parlato abbondantemente mi ha parlato delle due pause ci sono state una volta per un bug sull'animazione è una conseguenza non è andata una cosa come doveva andare in base all'eper che ho sto usato e non mi si sente più no no ti si sente tranquillo tranquillo no io ogni volta mi prendo non ti preoccupare te lo dico proprio ti indico se succede qualcosa perfetto mi fai segnare tipo cose di questo tipo esatto perfetto poi dopo per il monitor insomma è andata come è andata però effettivamente i fanatic secondo me hanno dimostrato di essere un po' più squadra ma soprattutto di saper sfruttare sempre l'occasione giusta il minimo errore di G2 esports l'hanno sempre saputo sfruttare dai G2 invece ho visto molto meno controllo di mappa un po' meno visione su quello che effettivamente poteva esserci e niente alla fine il risultato è che i fanatic in questo momento stanno volando sulle aree dell'entusiasmo ormai qualifica dei playoff tra l'altro insieme ai ROG sono insieme ai primi in classifica e sono le uniche due squadre per il momento qualificate ai playoff e qui volevo spendere due parole perché i playoff cioè le squadre che si qualificano i playoff in modo in cui le squadre si qualificano i playoff è sempre lo stesso cioè le prime sei del regular season del summer split ma in modo in cui vengono distribuite poi successivamente nel tabellone dei playoff cioè se parti da winner bracket o se parti da loser bracket e che ricordo quel playoff adesso del summer split poi sarà quello decisivo per i mondiali non ci sono altre chance non c'è un last chance qualifier non c'è più un regional qualifier ormai da due anni l'unico modo per arrivare ai mondiali è entrare in top 3 nei playoff del summer split ma il seeding appunto cioè da dove tu parti all'interno di questo nell'interno del tabellone sostanzialmente del playoff dipende dalle risultati dalla somma del punteggio dei risultati ottenuti nei spring split playoff e nella regular season playoff in pratica chi è arrivato primo nello split quindi in questo caso nello spring split in questa cosa i mid lions avevano conquistato partono con 90 punti i rog con 70 i G2 che erano terzi con 50 invece poi successivamente chi arriverà primo nella regular season nel summer split prenderà 120 punti e il seeding è molto importante quindi per questo conta ad esempio già la differenza tra arrivare primo e arrivare secondo nel summer split non è solamente una questione ovviamente di entrare ai playoff ma è anche del seeding che tu ti vai a prendere non è più un discorso di vabbè arrivo sesto che me frega tanto entro comunque i playoff sì ma se non avevi un punteggio buono prima e hai un punteggio minimo adesso finisci praticamente nel primo turno l'uso il bracket e il rischio ovviamente da subito di uscire direttamente dai playoff quindi questo è attenzione facciamo anche attenzione importantissimo in questo caso l'ordine in cui si arriva primo o sesto perché si prendono un tot di punti in più o in meno rispetto a quelli che ovviamente ti vanno a servire poi la cosa interessante invece della che è successa in una settimana è che vabbè i vitality continuano a fare il su e giù che gli serve ma la cosa importante sono i mad lions e i mad lions anche loro continuano a essere astelenanti vanno un po' su vanno un po' giù nei vincoli poi vanno a perdere anche in questo caso contro gli SK tra l'altro prima settimana in assoluto 2-0 per gli SK gaming e qui ovviamente c'era un tweet interessante oggi se non sbaglio se era DLC in cui si nominava la famosa Miracle Run ovvero una squadra tedesca con la S esatto partita 1-8 esatto l'anno scorso fu lo cerca 0-4 tra l'altro questo split invece potrebbero essere gli SK gaming appunto sempre una squadra che inizia con la S che parte da 1-8 perché adesso ho ottenuto due vittorie consecutive due vittorie consecutive e dalla stessa settimana non era mai successo e adesso la lotta per i playoff è veramente serrata abbiamo un purpurri di squadre lì in mezzo tra l'altro gli SK hanno vinto e hanno vinto con merito hanno vinto la prima con gli XL se non ricordo male la seconda invece con con i Mad Lions io purtroppo oggi non ho la possibilità di avere un secondo schermo e quindi mi viene un po' complicato e difficile andare a verificare tutto sul momento ma mi affido ovviamente ai controlli di Andrea si hanno vinto contro XL e contro Mad Lions l'ho detta giusto la memoria non inganna tranquilla nonostante la vecchiaia ma a parte questo gli SK dicevo anche le prestazioni iniziano ad essere veramente interessanti il Lilip sembra essere stato il l'aggeggio l'aggiunto è più che altro la chiave di volta di volta anche perché soprattutto hai tolto gli Esitz ma non è più il suo ruolo cioè fa un attimo ruolo da coach e fare chi è il coach che il giocatore ovviamente non era facile non è facile perché non puoi concentrarti effettivamente su quello che ti serve e che vuoi fare realmente quindi va a complicarti un po' la vita va a complicarti un po' la situazione e soprattutto Triz che adesso può fare davvero che era prima il support adesso il jungle lo sappiamo non ha cambiato in questo split può davvero ottenere e fare quello che preferisce quindi la domanda adesso è bisogna ancora continuare appunto sugli SK dicevo un purpurio pazzesco perché abbiamo gli ultimi stanno a tre che sono lo Schalke 0-4 a tre vittorie comunque la sesta classificata sta a cinque vittorie che sono gli Astralis a fare merito addirittura con i Vitality e in mezzo ci sono appunto SK Gaming ed SL quindi abbiamo cinque squadre in realtà tutte alla portata dei playoff e mancano ancora cinque game perché mancano le ultime cinque partite le ultime due settimane ricordiamo che è l'ultima è una super week e quindi durerà poi tre giorni per il sabato e domenica e settimana prossima e non so non sono convinto non sono sicuro che già questa settimana si possa decidere qualcosa su cui escludere dai playoff non la credo così scontata direi che prima di passare alle altre alle altre leghe che poi andremo come al solito a vedere anche velociamente perché ovviamente noi facciamo sempre tardi però invece prima di passare alle altre leghe io volevo chiederti una cosa per quanto riguarda la classifica attuale perché se tu ci pensi un attimino i primi cinque della classifica che sono Fanatic, Rogue, Mide Lions, G2 chi sto dimenticando e Misfits e Misfits sono in un certo senso le squadre che si sarebbero viste che ci si aspettava che si sarebbero viste alla fine nei playoff dopo le prime partite almeno per ora io non voglio trarre a nessuno chiaramente la sorpresa al momento sono gli Astralis perché nessuno si sarebbe aspettato di Astralis in una posizione diversa dalla decima ma ce li vedi i Vitality fuori da questa corsa per i playoff? in realtà in realtà sì e non sono l'unico che comunque l'avrebbe detto perché sono quella lo diciamo fin dall'inizio sono quella squadra forse l'unica di questi split che può tranquillamente vincere e perdere con chiunque ed effettivamente è quello che sta succedendo in questo campionato perché perdono con gli SK però poi ho gli XL però poi vincono magari con i Misfits con i Rob con i Fanatic con i G2 veramente è una squadra che a seconda se la mattina scende dal letto col piede destro col piede sinistro o tutti col piede destro tutti col piede sinistro qualcuno un po' così un po' così e alla fine è questo quello che succede e va a finire si va a configurare quella situazione che in realtà molti avevano preventivato e avevano previsto perché comunque ok che il meta è in questo momento aggressivo ma per loro per i giocatori che hanno è troppo aggressivo nel senso che tirano dritto chi c'è c'è come cavalli o come un cavallo con i paraocchi all'interno di una cristalleria lui direi dritto se non prende niente tutto ti ho guadagnato ma può benissimo prendere tutto metà qualsiasi cosa e mi preoccupo eventualmente anche per le best of five perché anche le best of five è la mina vacante i 3 ci sono la mina vacante la mina impazzita messa lì che tu non sai mai chi vai a incontrare e questo è il problema nelle best of five potrebbero arrivare a game 2 2 a 0 in una squadra contro i G2 per esempio contro i rogue addirittura per poi perdere 3 a 2 tranquillamente io non mi stuperei più di tanto di vedere una cosa del genere e si capisce perché self media non andava bene per i fanatic qual è il problema dei fanatic che non è tanto self media come giocatore nel senso non è che self media è scarso semplicemente non fittava assolutamente in quel tipo di meta con quel tipo di stile che i fanatic volevano perché tu adesso si capisce lo dimostrano anche i numeri tutte le risorse sono in mano vanno in mano ad upset e dovevano farlo fin dall'inizio e ci trovavano ma avendo un jungler come self media che non è buivo che tranquillamente sta diciamo parecchio a supporto del team si mette a disposizione del team e cerca di distribuire le risorse il più possibili e soprattutto sapendo che adan è tranquillo in top lane ormai cosa che buivo invece non aveva perché buivo è un altro che richiede risorse tu hai buivo che ti richiedeva risorse in top lane avevi nischi che non lo mettevi nelle condizioni per formare meglio perché gli davi il più supportivo stava con Orianna stava con Sera finì un sacco di vol con Gaglio e fosse stato in questo meta cosa che non si vedeva se fossimo stati in questo meta probabilmente avrebbe giocato solamente Karma e Lulu per dire se fossimo stati in questo meta quindi figuriamoci del tipo di gioco mentre lui invece sta dimostrando in questo split che porca miseria anche con i pick aggressivi Akali Lucian quello che vuoi sa il fatto suo sa davvero giocare sa mantenere la legna sa essere indipendente non ha bisogno della balia è ovvio che ogni tanto qui si fa vedere tutto di guadagnato ma non ha bisogno della balia per forza necessariamente cosa che permette di mettere tutte le risorse ad upset tanto poi upset dal midgamer poi rinte agli avversari può uscire anche 0-0-0 dalle early game non gliene frega niente lui ha preso comunque le risorse che gli servivano e comunque 0-0-0 dalla lane con il sang non ci esce no no infatti non ci esce diciamo che adesso i fanatic sono nella condizione di poter performare con questo stile di gioco che partiva tutto dal dovere avere era sbagliato non era sbagliato l'impostazione dello stile di gioco prima era sbagliato quali giocatori doveva mettere in fase di support diciamo e chi in fase di aggressività hai switchato praticamente il jungler con il con il mid laner da questo punto di vista hai un mid laner che è il soggetto un po' più aggressivo un jungler che si mette a disposizione della squadra con un pick un po' più cioè anche il kartus stesso per paradosso è un pick supportivo perché è chiaro che non è un pick che ti va aggressivo in giungla bersaglia non può farlo kartus perché soprattutto quando ad esempio settimana scorsa è stato intelligentissimo il pick di Jankos su Diana a parte che è uno dei suoi pick migliori nelle ultime settimane ma soprattutto Diana entra in giungla di kartus e fino al livello 7 o forse fino al livello 11 insomma finché kartus non ha almeno una zona o non ha abbastanza danni Diana entra lo basta lo scioglie in mezzo secondo e se ne va senza problemi forse gli hai tolto un quarto di vita Diana forse se sei aiutato a qualche campo della giungla e si ti sei portato tra l'altro è molto veloce ovviamente quindi ti sei portato a un sacco di campi e quindi hai giustato questo discorso qui nei fanatic e ti trovi adesso a meraviglia nei vitality invece forse hai peggiorato addirittura la situazione perché adesso hai un jungler aggressivo hai messo un mid laner aggressivo hai un top laner che cambia di volta in volta Shigenda non sta facendo danni addirittura è chiuso nella sconfitta contro non ricordo se erano fanatic con il titolo di sposo settimana scorsa ma grande onore a lui perché comunque è chiuso 0012 quindi 12 di KDA preso così nonostante la sconfitta non sta facendo danni però non sta nemmeno facendo la differenza e poi crea un shot in corsia inferiore che ovviamente è un altro aggressivo che comunque non solo aggressivo ma è comunque una di carry e bisogna di risorse esatto se tu passi tutta l'early game a cercare di prendere risorse giungla e mid lane il carry cioè il bot lane per ottenere delle risorse deve prendersi dei rischi nella sua corsia e non sempre quei rischi che vengono ripagati ovvio che vitality se ti prendono un po' di vantaggio nell'early poi quelli vanno a valanga non li recuperi più non li prendi più vanno a valanga è finita non solo la cosa di crownshot anche se ci pensi l'anno scorso lo scorso split loro avevano preso crownshot proprio per dare una voce alla squadra che era una voce che mancava non è che fosse un problema del fatto che loro comp se non sbaglio che non fosse capace anzi comp secondo me una di carry meravigliosa anzi il problema lì era proprio il jungler lo scorso split esatto però loro avevano bisogno di una voce di qualcuno che gridasse un po' più forte che desse delle indicazioni avesse l'esperienza degli altri esatto e hanno chiamato crownshot solo che poi hanno preso altri quattro crownshot altri tre perché l'abrobo credo che l'abrobo in realtà è uno che parla tanto anche lui però diciamo che accanto a crownshot credo si sia un po' ridimensionato per ovvie ragioni anche per questioni sono solo di esperienze di età anagrafica ovviamente e quindi si è messo un po' a disposizione però gli altri che hai preso hai preso comunque e poi è selectivo fino a un certo punto però è selectivo non gli puoi fare una colpa è un rughi il primo split non è Adam non è Adam no Adam ha dimostrato di essere di non essere un rughi nel senso che uno lo guarda il suo primo split e non mi sembra affatto un esordiente un po' come Wipo quando esordì il suo primo split addirittura poi esordì nello stesso split esordì pure nei mondiali prendendo il posto di Soz che rimase così Soz praticamente che giocò solo l'ultimo game delle finali sì diciamo che lo fece anche per per dargli diciamo la soddisfazione di superare Faker nel numero di presenze fino a dove? fino a quel momento no vabbè poi nel 2019 Faker lo risuperò se non sbaglio adesso è di nuovo Faker quello con più presenze al mondiale però nel 2018 era Soz superò questo record questa soddisfazione di superare un mostro come Faker almeno in una in un record di questo tipo allora direi che come proseguiamo? a proposito di Faker noi potremmo collegarci al SK oppure facciamo la formazione guarda direi che sono e mezza allora chiudiamo col giro facciamo il giro delle delle varie leghe vediamo di che cosa dobbiamo parlare io mi guardo qua perché me ne sono sognate tutte e ce le ho tutte sull'agenda ovviamente perché comunque vengo attrezzato nonostante sia in una situazione di fortuna ma vengo sempre attrezzato partiamo proprio dall'LCK perché la cosa interessante dell'LCK è che settimana scorsa abbiamo avuto una mezza crisi per quanto riguarda i demonchia le demonchia che anche loro sono non ti erano effettivamente sembravano essere tornati finalmente eppure sembrano essere un po' attalenanti adesso penso che stiano passando gli highlights per quanto riguarda il o stiano per passare gli highlights proprio dell'LCK per quanto riguarda i demonchia e abbiamo avuto la sconfitta contro i Nongshin Red Force la sconfitta poi subito dopo contro i T1 insomma è un secondo posto che adesso inizia a vacillare anche perché sembra che si stiano imponendo davvero sempre più i Nongshin Red Force che sono primi al momento sono primi adesso sì sono primi in classifica e che adesso sempre più se prima poteva essere un diciamo una sorta di sorpresa una sorta anche di meteora forse beh adesso non lo è più perché adesso adesso le partite sono veramente tante siamo al giorno di ritorno inoltrato siamo forse alla seconda settimana adesso del giorno di ritorno inoltrato e adesso non può essere più una coincidenza non è più una questione di calendario hai affrontato tutte le squadre alcune le hai pure affrontate già due volte quindi sicuramente stanno andando avanti e non li escluderei a questo punto dalla corsa mondiale anzi anche perché rivediamo che nel CK non c'è più la King of the Hill se non sbaglio ma comunque c'è sempre un sistema molto complicato ma non c'è l'ora di playoff ma comunque arrivare tra i primi ti garantisci di arrivare tra l'altro in CK comunque quattro squadre vanno al mondiale quest'anno e non possiamo escludere da queste quattro i non-Cin Red Force che giocano veramente bene tra l'altro per la narrativa storica di League of Legends è chiaro che non-Cin quindi con questi inseri di NS lo scudo come come logo il richiamo è chiaramente tratta adesso al loro posto il richiamo è chiaramente a Imagine Shield delle prime stagioni competitive di League of Legends e poi abbiamo anche i Ging che cadono iniziano a cadere un po' troppo cioè questi sono arrivati 7-0 e poi piano 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 è iniziato a cadere in questo caso sono caduti settimana sposta di tour contro i Sandbox che Sandbox non sono uno dei team che sembrava potesse lottare per il mondiale potesse lottare per la parte alta della classifica eppure tante sorprese sono pari con i Diamond Kia sono pari con i Diamond Kia mi sembra questo al momento esatto in questo momento praticamente sì il CK è veramente interessante questo anno anche perché in realtà era partita con in un certo punto avevamo Ging 7-0 DRX 0-8 ultimi in classifica e in mezzo c'era praticamente di tutto più o meno adesso T1 e Nonshin si stanno un po' avvicinando verso la vetta con Ging che sono un po' scesi Bigay che sono un po' rimasti sono ripresi cosa rimasti là nel frattempo salvano un pochino anche i Sandbox scendono invece un po' gli Africa nel frattempo di Rex hanno vinto la loro prima partita i Fredrick e Brian che invece sono rimasti più o meno lì quindi cioè è un continuo evoluzione ma molto interessante perché non credo che abbiamo mai avuto un LCK così combattuta anche lo scorso split è stato un dominio da un buon Kia ricordiamo e da tutto questo tra l'altro chi è che non ne beneficia e chi ne sembra che rimanga fuori i KT roster e non capisco come un roster come loro almeno sulla carta si trova in una condizione così difficile in questo momento se passiamo poi all'LPL qua abbiamo brutte notizie cioè abbiamo una bella notizia per gli appassionati una brutta notizia per noi italiani gli appassionati italiani la bella notizia è che gli RNG sono effettivamente tornati noi dovremmo avere gli highlights nel frattempo che scornano della partita contro perfetto bravissimi contro gli EDG i EDG ricordo prima in classifica e gli RNG che sembravano fuori cioè erano fuori dalla costa playoff in classifica almeno in grandi difficoltà tre sconfitte o forse addirittura quattro nelle prime sette partite adesso però effettivamente tendono essersi riprese in seguito che adesso sono a cinque vittorie di fila due tutte più zero tra cui appunto proprio anche gli EDG primi in classifica quindi gli RNG che adesso si hanno avuto un po' di problema tutte le squadre l'abbiamo detto più volte non mi stanco di dirlo tutte le squadre che hanno partecipato al mio season invitational sono tornate a casa con le ossa rotte in termini di mental in termini di allenamento tutti hanno avuto bisogno di tempo per riprendersi i medie non si sono ancora ripresi i Dambunchia non si sono ancora ripresi si sono ripresi invece nel CEO si sono ripresi i Pentanet che sono tornati ad essere i primi in classifica anche se anche lì c'è casino pazzesco per esempio ci sono quattro squadre in due punti praticamente prima in classifica prima in seconda però comunque sono tornati nel posto in cui meritavano di stare e gli RNG piano piano stanno salendo uscendo fuori dal pantano di quella bruttissima zona che discuteva dai playoff dell'LPL poi la brutta notizia adesso dovrebbe partire la partita degli LGD contro i World Elite è che ora io non voglio essere fatalista ma credo che non vedremo Shadow che gioca appunto ricordo negli LGD non vedremo Shadow questi mondiali perché la vedo veramente complicata la situazione considerate che gli LGD mancano solo tre partite da disputare sono tra l'altro attualmente fuori dalla zona playoff cioè fuori dalla top ten perché le prime dieci vanno ai playoff e le squadre che gli stanno davanti tra quelli LG che sono la decima hanno più partite da giocare e forse un calendario è un più migliore anche se poi però io non ho visto Andrea come è finita FPEX contro OMG sai che non so risultato? te la faccio vedere io se vuoi vai vai te la faccio vedere subito perché FPEX ma so che voi la potete vedere FPEX contro OMG è risultata in un dominio totale dei fanplus phoenix completamente distrutto gli OMG e tra l'altro un game in cui LWX ti ha dovuto prima Ziggs e poi se non mi ricordo male Pain tra l'altro abbiamo visto qualcosa che stavamo cominciando a vedere anche da qualche altra parte esatto qualcosa è un po' di spice però il domino dei fanplus phoenix contro gli OMG è stato netto non c'è stata partita neanche per un secondo hanno dominato tutta la buona questo è positivo questo è positivo perché anche gli FPEX sono sempre quel messo allora gli FPEX sono primi in classifica sì sì esatto il problema è che gli OMG sono anche loro fuori dalla corsa di playoff così perché i Royal Never Gap sono tornati su esatto perché sono stati i Royal Never Gap quindi sono condicesimi dodicesimi OMG e LGD esatto 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 e anche lo scontro diretto perché tra l'altro gli OGD si scontreranno direttamente con gli OMG anche lo scontro diretto a questo punto non è detto che possa essere sufficiente per gli OGD per qualificarsi al playoff che ricordo essere l'unica via per qualificarsi al mondiale anche se dalla Cina c'erano 4 squadre ma in questo momento è molto difficile perché non si è delle squadre le RNG che si riprendono ed è una Funplus Phoenix che stanno ormai giocando benissimo sono due gli IGD che stanno giocando veramente bene siamo tre sono giusto i JD Gaming che sono a due sconfitte di fila che possono scendere un po' che possono scendere solo loro e oltre queste tre che si possono andare ai mondiali metterei tra le candidate forse il Ray Raton sicuramente non metterei i Victory Five che sono in questo momento la squadra con il più alto numero di sconfitte in una lega competitiva continentale perché stanno 0-11 avevamo guardato prima se non ricordo male stanno 0-11 mi ricordano tanto la mia losing streak in solo Q quindi sì io sono vicino lì sei vicino mi sento la giusta passando invece all'LCS da questo punto di vista invece abbiamo davvero una buona notizia perché gli IGD sono ufficialmente matematicamente qualificati ai playoff dell'LCS mentre in buona posizione è vero è stata interrotta la loro win streak che era di 8 vittorie consecutive in quel momento era anche la più lunga esistente ma attualmente è stata superata dai dai pesci talon della PCS che finalmente è iniziata che penso che è iniziata due settimane fa e già stanno 9-0 questa città sta già 9-0 anche dimostrazione che la PCS non ha all'interno della PCS non hanno rivali sono una squadra veramente che purtroppo fa quello che vuole in questo momento non è competitivo assolutamente per loro però anche se non è competitiva comunque poi ha fatto 4 ammissi in invitation al contrario di una certa LCS ma detto ciò gli epigenici comunque nonostante la sconfitta subita con i Dinnitas ha Dinnitas che tra l'altro mettiamolo qui fra parentesi Dinnitas che hanno annunciato fra virgolette nel senso che in realtà non l'hanno annunciata l'hanno fatta passare sotto banco perché non l'hanno pubblicata sui social ma qualcuno si è accorto che sul sito c'era l'annuncio hanno avviato una collaborazione una sponsorizzazione praticamente con l'Air Force statunitense quindi in questo momento sono sponsorizzati si faranno anche attività insieme degli streaming delle attività insieme non so che tipo di attività insieme tu puoi fare quindi esports puoi fare con l'aviazione statunitense ma insomma qualcosa faranno non è stata bene vista in realtà dallo community lo sappiamo comunque la community su questi temi è sempre molto sensibile in realtà non è stata ben vista assolutamente ma tant'è è successo c'è stato e quindi ce la prendiamo per così com'è detto ciò per il resto invece gli Vigilis comunque appunto abbiamo Gesù che torna ai playoff dell'LCS e torna anche bene perché nel senso in questo momento gli Vigilis sembrano aver trovato la loro quadra e stanno giocando veramente bene prestazioni ottime adesso se Svescaren che io ho tanto flammato in realtà Svescaren adesso ha davvero trovato penso la sua dimensione all'interno del team la pausa di qualche settimana fa evidentemente gli è servita veramente tanto poi ripeto si trova adesso nel gruppone di testa in cui ci sono TSM Andre Thieves Ligue DC9 e insomma non la vedo così male per i playoff Andrea non so se tu la pensi diversamente io vedo i Andre Thieves che sembrano un pochino staccati rispetto al resto del dello squadrone Abedag ha portato qualcosa i TSM per me vederli lì non mi fa credere in nulla perché comunque sono i TSM e sappiamo che cosa fanno i TSM i TSM sono destinati eternamente ad essere un meme vivente e fonte per cioè sono il centro del flame da parte dell'Europa nei confronti del Nord America quindi ma infatti il TSM ormai sta per team solo meme esatto team solo meme infatti sono secondi in classifica sono sopra i Cloud9 sono sopra i Levy Geniuses magari arriveranno anche ai mondiali ultimi del girone quello è quello che mi aspetta no un altro 06 io per primo non riuscirei a sopportarlo un altro 06 anche perché ricordiamo tutti quanti che i TSM sono anche in grado di coprirsi estremamente del ridicolo grazie ai membri della loro del loro staff per esempio la settimana scorsa è successo che avevano una draft contro i i Counter Logic se non sbaglio hanno giocato contro i Counter Logic hanno giocato contro i Counter Logic e loro hanno insistito sul fatto che diciano non ha senso andare a pensare a una draft contro i Counter Logic perché noi vinciamo per forza contro di loro potremmo giocare anche con 5 team e con 5 team vinceremo contro i Counter Logic che sono troppo scarsi per noi puntualmente hanno perso esatto come normale come gli si dice punizione giusta punizione divina quasi va bene ok allora andiamo a fare a questo punto la formazione del fantasy così poi ci congediamo ci salutiamo e poi ci dà appuntamento per la settimana prossima ma la cosa più importante è proprio la formazione del fantasy io lo so che tutti aspettate questo momento perché è molto importante per tutti perché vi giocate i soldi non è vero vi giurate i soldi però vi giocate ci giochiamo tantissimo con gli amici l'onore ci giochiamo l'onore con gli amici nel fantasy allora io vediamo se riesco ad appicciare dovrebbe vedere lo stesso vero? vero? sì credo di non aver combinato io volevo solamente sapere da te adesso vedo anche lo schermo con il con il roster possibile allora prima di decidere quali giocatori ci facciamo di capire ovviamente come al solito su quali squadre puntare allora io ripeto sono un fifone come se almeno per questo play day io continuo a vedere che sono un fifone e in quanto fifone su fanatic rogue non punterò mai però aspetta un attimo aspetta un momento dimmi 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 io voglio sapere da te la stessa nascosta non abbiamo fatto la formazione insieme no esatto io voglio ritornare su scorrì verso il basso e mi leggi quanti punti hai fatto all'ultima giornata io non ce l'ho davanti ma io l'ultima giornata ho fatto poco no no ma ho fatto ho fatto più o meno quello sai ho fatto tipo 214 fosse o 240 c'era un 2 e un 4 un 2 ma comunque non tantissimo sì 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 più o meno quel punteggio stesso tuo che hai fatto tu l'ultima volta nel caso non ho fatto di criticare ilisang insomma no 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 quello no ma il problema è che chi era stato il problema perché un po' di giocatori non mi avevano fatto Patrick che avevo messo Patrick leggendario super pompato e poi in realtà non mi ha fatto praticamente niente nonostante perché avevano perso e poi un paio di altre cose che insomma non sono andate nei migliori dei modi ma pazienti capito io ero tentato di mettere i fanatic però lo ripeto sono un pifone non li ho messi perché giocamero contro i G2 e quindi niente me la prenderò in un'altra vita e riuscirò a prendermi questa religione vediamo che G1 esatto esatto allora partendo dalle squadre ripeto Roger Fanatic forse non prenderei nessuno perché sono un pifone io però un giocatore come Inspired ad esempio è un giocatore che comunque anche quando perde riesce a fare il suo anche almeno di essere uno scompo ma perché andare a prendere quello quando possiamo fare altro ad esempio ad esempio un corno perché questo è una di quelle giornate in cui è impossibile riuscire a capirci qualcosa però se noi dobbiamo partire ad esempio da un jungler come jungler in questo caso è chi metti cioè sai che cosa io oramai ho imparato facendo la formazione del fantasy che il jungler migliore da mettere durante la settimana è quello che gioca contro lo shalk perché chi rei potrebbe essere un'idea insomma perché chi rei fa cagare io non l'ho detto la dito no no lo so lo so lo so lo so e quindi bisogna mettere marco anche perché gli excel stanno 0,4 di losing streak non aiutano sotto cioè dovrebbero tornare a vincere prima o poi anche perché voglio dire devono riprendersi un attimo dopo aver fatto la settimana 2-0 e poi 0-4 e quale occasione migliore se non giocare contro l'ultimo in classifica tra l'altro scontro diretto fondamentale anche per la costa playoff se non proprio contro lo shalk 0-4 se non proprio contro la squadra che se vai a vedere i punti fatti chi rei probabilmente è uno degli ultimi e ricordiamo a tutti quanti che si Gilius è ancora in panchina nello shalk esatto poi secondo me questa settimana contro gli sk possiamo puntare su G2 eSports su due giocatori di G2 eSports e su chi si punta e qui Reckless sicuramente a meno che non siete fanboy di Upset e volete comunque mettere Upset sono assolutamente un fanboy di Upset però nasco fanboy di Reckless ok quindi andiamo a mettere Reckless giustissimo e io non mi rischi di Wunder forse è meglio mettere esatto perché altri top laner tranquilli per virgolette non ne vedo e quindi meglio mettere un Wunder in questo caso a questo punto manca un mid laner è un support come mid laner forse in questo caso possiamo mettere Veteo sì perché secondo me perché comunque però aspetta un attimo Veteo sta contro i Vitality sta contro Leader è vero però secondo me Misfits Vitality è una partita in cui i Misfits trovano la loro comfort zone sì credo anch'io per tiro di gioco contro i Vitality l'alternativa potrebbe essere mettere anche Magifelix forse perché comunque secondo me tra Medias Travis è una brutta partita da pronosticare bello rischioso Magifelix però magari viene un po' galvanizzato io metterò Veteo tu metteresti Veteo ma tu sei un fanboy di Veteo sì no e noi mi affiderò a Veteo proviamoci proviamo esatto e manca il support e poi il support mettiamo Illissang un Illissang pazzo quasi quasi un Illissang pazzo quasi quasi io lo metterei sai bene ok poi andiamo a finire sempre che comunque in qualche modo infiliamo Illissang Illissang sta bene ovunque è come il parmigiano esatto e qua la domanda è il coach più facile da mettere è quello dei G2 mettiamo Grabs o quello degli Excel mettiamo Grabs io metterei Grabs del G2 Esports metterei Grabs e Grabs sì nel frattempo non so se si sente mi dispiace ma c'è un influencer che sta provando di fare swipe up sul suo profilo Instagram per andare a vedere l'University League passano swipe up la sta rifacendo quattro volte dico questa questa story ok ce l'abbiamo la formazione direi che si può anche fare così no? sì direi che si può fare così la formazione è abbastanza per un evento che niente che cos'hai quello del support fa il 100% dei base points il top fa il 100% oppure se un player nel roster fa meno di 0 punti fa 0 affidiamoci a Elis ci affidiamo a Elis se abbiamo detto di voler credere in lui capitano è un mio capitano esatto esattamente capitano è un mio capitano giustissimo beh vedete che la formazione è fatta Andrea ci siamo riusciti ci siamo riusciti ce l'abbiamo fatta anche oggi anche in differita anche in un'altra prostazione almeno per quanto mi riguarda ricordo che siamo sono in diretta da Napoli dalle finali di l'University League e direi che Andrea per oggi è tutto abbiamo spostato veramente stavolta abbiamo dato credo il giusto spazio a tutte le competizioni PG Nationals abbiamo parlato di Elici anche con Nudels approfonditamente anche della questione dei G2 Esports cosa fa cosa non va insomma poi sono anche delle aspettative delle varie altre leghe competitive internazionali per quanto riguarda ovviamente tutto il discorso del LCK LPL LCS insomma la Rock World se così vogliamo chiamarla abbiamo fatto finalmente la formazione del Fantasy LC tra poco tra l'altro tra un'ora e qualcosina alle 18 che riguarda l'appuntamento con l'inizio di questo primo play day di questa settimana di LC Andrea direi che da parte mia 34 gradi da voi complimenti 34 gradi all'ombra all'ombra ecco poi penso che si sia un po' meglio invece per fortuna Andrea da parte mia Francesco Di Giomonobardo direi che per oggi è tutto ovviamente io vi auguro buona persecuzione e lascio attenzione ovviamente i saluti finali per salutare tutti coloro che permettono grazie ragazzi davvero dalla regia e anche fuori dalla regia di poter andare avanti con questo show con questo format di intrattenimento e ovviamente tutti gli spettatori che vi ringrazio in più ovviamente Andrea a te per i saluti finali grazie Francesco grazie io inizio con i miei saluti finali che di solito dimentico mi dimentico gran parte dei saluti finali però mi ricorderò sempre perché qui accanto a me di salutare Mattia Mingione dalla regia che tutto vede tutto tocca a Nicolò Masini il generale che corregge ogni nostro errore e sono tanti e volevo ringraziare anche il direttore Giulio Gezzi che ci sta sentendo nella redazione che ha reso possibile la creazione di questo format quindi grazie ancora e Raf Raffaella Navarra che come ho detto prima si è divertito insieme a me a tagliare gran parte degli highlights pur non conoscendo niente di League of Legends quindi grazie ancora Raf e sarà un futuro giocatore di League of Legends a me serve un support comunque e dicevo vi ricordo che potete lasciare un cuore al canale per non perdervi nessun nostro aggiornamento per non perdervi le nostre live abbiamo il martedì le interviste giovedì la Tretalk con Federico Marconi Martina Procaccini e poi sempre per noi il venerdì Studio League ogni giorno ogni venerdì dalle 15 alle 17 sempre vi ricordo anche che nel caso voleste sostenere il canale e avete Amazon Prime potete poi vi spiegheremo anche meglio come non vi preoccupate potete fare la subscribe al canale per permetterci di realizzare quello che state vedendo in questo momento io vi ringrazio a tutti per essere state qui con noi ancora una volta grazie Francesco che ci sta ancora ascoltando vi ricordo anche di seguire Francesco che la prossima settimana tornerà immagino spero con i suoi orari stabili domani e no martedì su Bion PD e grazie ancora a tutti ci vediamo venerdì prossimo grazie per averci seguito se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video iscriviti al canale seguici anche su Twitch Instagram e Facebook i link li trovi in descrizione ciao a presto a presto